Lo scopo di questo video è quello di riportare alla vostra memoria quello che secondo me è il miglior capitolo della serie di Resident Evil. Approfittando del fatto che sono passati 20 anni dalla sua uscita, andiamo a scoprire perché dal mio punto di vista il remake del primo Resident Evil rappresenta ancora oggi il punto più alto della saga. Nel corso degli ultimi anni siamo stati abituati ad associare il concetto di remake a giochi come Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Due ottimi videogiochi che hanno sicuramente contribuito a riportare in alto l'interesse verso questa saga. Non c'è che dire, Capcom dal 2017 non ne ha sbagliata una con Resident Evil, anzi possiamo dire che anno dopo anno finora si è migliorata sempre di più, rilasciando videogiochi che risultano uno più bello dell'altro. L'operazione di remaking che è stata operata con Resident Evil 2 e 3 è molto delicata perché i due giochi originali da cui queste opere sono tratte sono estremamente datati. Nel senso però che non risultano più godibili per un giocatore moderno. Si è chiaro, rimangono ovviamente due giochi leggendari che hanno fatto la storia e che hanno contribuito al successo della PS1. Ecco quindi che Capcom con gli ultimi due remake ha operato cambiando radicalmente il gameplay, eliminando la telecamera fissa e sostituendola con una ben più moderna telecamera sulla spalla. Trasformando quindi due giochi in esperienze in terza persona, decisamente più in linea con i giochi moderni e anche effettivamente con la rivoluzione portata da Resident Evil 4. Trasformare Resident Evil 2 e 3 in giochi in terza persona ha perfettamente senso. Soprattutto perché nel corso dell'ultima generazione la formula di giochi in terza si è andata a perfezionare sempre di più. Se prendete Resident Evil 4 che è stato il primo ad adottare questa formula e lo paragonate come esperienza a Resident Evil 3 Remake, beh, vi renderete conto che non c'è paragone su quale dei due si è più completo, fluido e godibile al giorno d'oggi. Non perché Resident Evil 3 sia per forza più bello del 4, ci mancherebbe, non è di bellezza che sto parlando. Sto solo dicendo che il 4 è stato un grande videogioco per chi ha inventato una formula che nel corso della settima e dell'ottava generazione di videogiochi ha avuto modo di essere un po' rivista, perfezionata. Arrivando quindi a Resident Evil 3 Remake che, ovviamente, siccome sono passati tanti anni, siccome il mondo del videogioco si è evoluto, rappresenta al giorno d'oggi il meglio che c'è tra i Resident Evil in terza persona. Esattamente come funziona con i capitoli per PS1. Proponevano un'esperienza a telecamere fisse che ad oggi non riesce più a trasmettere le stesse sensazioni che comunicava una volta, proprio perché la formula che adottavano aveva bisogno di essere rivista, perfezionata. C'era bisogno di evolverle quelle telecamere fisse, perché il loro potenziale ancora non era stato sfruttato appieno. Ed ecco che, per rispondere a questa esigenza, arriva lui, quello che dopo 20 anni ancora riesce a incutere lo stesso terrore di un tempo. Sto parlando, ovviamente, del remake del primo capitolo, Resident Evil Rebirth. Tutta questa parte introduttiva è servita perché vorrei bene evidenziare le differenze tra Resident Evil Rebirth e gli altri due in quanto remake. Laddove il secondo e il terzo sono andate a riprendere dei giochi vecchi di 20 anni, cambiando radicalmente il gameplay e appoggiandosi su una formula di gioco già ben consolidata, il remake del primo è uscito a distanza di soli 6 anni rispetto al gioco originale, andando a mantenere la stessa formula ma portandola ad una forma definitiva. Se al giorno d'oggi, giocando i capitoli per PS1, si ha la sensazione di star giocando a qualcosa di datato in cui la telecamera fissa rappresenta una limitazione, giocando in Rebirth ci si rende conto che invece, in questo caso, le telecamere fisse rappresentano un punto di forza, una caratteristica peculiare senza la quale l'esperienza non garantirebbe lo stesso effetto. Ogni singola inquadratura dà l'impressione di essere studiata al millimetro per incutere angoscia, perché sì, se dovessi esprimere la sensazione predominante che provo quando gioco Resident Evil, direi angoscia. Un'angoscia data da ogni singola scelta dettata dalla direzione artistica del gioco. Inquadrature, colori, piccoli effetti sonori piazzati bene, rumori in sottofondo che senti in lontananza, candele che emanano bagliori soffusi, quadri appesi che rappresentano soggetti ambigui, cose che in sé non sono angoscianti ma che inserite in questa atmosfera altro non fanno che disorientarti. Il solo esaminare un oggetto apparentemente innocuo e leggerne la descrizione con quella voce muta che ti rimbomba nella testa crea un mix di suggestione che ti fa sentire solo, abbandonato, perso in una villa enorme di cui non conosci un misterioso background, con la consapevolezza che potresti ritrovarti morto se sbaglio il prossimo enigma. Enigmi, enigmi, tanti enigmi ci sono in questo gioco e tanti sono i misteri che alleggiano attorno a questa villa. Misteri che ovviamente trovano risposta attraverso una narrazione silenziosa che include documenti ben scritti e osservazioni dell'ambiente. Questa villa è davvero piena di misteri, alcuni di questi assenti nel gioco originale e creati appositamente per questa rivistazione. C'è un'aggiunta in particolare legata a un personaggio totalmente nuovo che ha forse suscitato in me il fascino più grande, cioè il personaggio di Lisa ed evito di scendere nel dettaglio perché magari c'è qualcuno che il gioco non l'ha giocato e non sa chi è. In poche parole, tutto questo funziona alla grande perché l'immersione che il gioco è in grado di offrire raggiunge dei livelli mai visti nella serie di Resident Evil e questo è dovuto proprio alla direzione artistica che lo rende ancora attuale dopo 20 anni. Parte del fascino dell'esperienza però è dato anche dagli zombie, questo dobbiamo riconoscerlo. Evitare gli zombie in questi ambienti così claustrofobici sicuramente contribuisce ad alimentare un costante senso di insicurezza, soprattutto perché, beh, uccidere gli zombie in questo specifico Resident Evil non è sempre una buona idea. I corridoi di Villa Spencer sono angoscianti però anche quando sai che non c'è nessuno zombie o qualsiasi altra creatura pronta ad attaccarti. Infatti, ciò che spaventa in Resident Evil non è solo la singola creatura perché anche quando non c'è nessuno in giro e ti ritrovi te da solo con il tuo personaggio, beh, fa paura lo stesso perché Resident Evil appunto gioca con le suggestioni, creando delle immagini che incutono inquietudine tramite scelte precise di luci e inquadrature. Non c'è un singolo posto del gioco che ti faccia sentire al sicuro, tranne ovviamente le famosissime stanze di salvataggio. Queste sono sensazioni difficili da spiegare anche perché nessuno dei Resident Evil recenti raggiunge questo livello artistico. Tra i Resident Evil di un tempo, beh, questo è l'unico che ci riesce per questo dico che dopo 20 anni rimane ancora validissimo. Gli altri erano ottimi per l'epoca, chiaramente vanno contestualizzati, giustamente, ma rigiocati oggi sembrano quasi degli esperimenti per arrivare a questo che è il vero capolavoro della serie. Volendo fare un paragone con i capitoli recenti che si attestano tutti su livelli altissimi, eh, dobbiamo cercare di capire con quali può essere paragonato. Resident Evil Rebirth è strutturalmente identico solamente al 7 e al 2 perché nel terzo e nell'ottavo si pongono obiettivi ben diversi puntando ad altri tipi di atmosfera, quindi sarebbe anche inutile e ingiusto paragonarli perché i loro punti di forza risiedono altrove. Considerando invece Resident Evil 7, senza dubbio è spaventoso e la famiglia Baker offre quel gusto di suggestione molto simile rispetto al primo capitolo, ma il gioco si incarta spesso in ingenuità di gameplay che fortunatamente con i giochi successivi sono state corrette. Passando a Resident Evil 2, devo dire che la stazione di polizia, secondo me, non raggiunge neanche la metà del fascino di Villa Spencer. Non c'è quel lavoro certosino dato da giochi di luce, colori, ombre, ma punta più che altro ad inquietarti immergendoti in posti banalmente bui e riempiendoli di zombie. E va bene così, eh, perché io adoro Resident Evil 2. Dico solo che è, tra virgolette, solo un ottimo gioco. E in più, altre sbavaturine qua e là non gli consentono di elevarsi e ad ambire più in alto, cosa che invece il primo capitolo può effettivamente fare. L'unico che in teoria potrebbe competere è un giochino che spesso vedo ingiustamente dimenticato, cioè Resident Evil 0, che ne condivide il fascino e il motore grafico. Purtroppo, però, secondo me, Resident Evil 0 non riesce a spiccare particolarmente, per colpa di alcune scelte discutibili di gameplay che col tempo si sono rivelate poco vincenti, cioè la gestione contemporanea di due personaggi e l'assenza della cassa oggetti. Il gameplay nel primo funziona alla grande proprio perché è semplice ed efficace, molto più immediato e gratificante rispetto allo zero. Insomma, quelli che ho menzionato sono tutti ottimi giochi. Intendo dire semplicemente che il primo capitolo regna lassù. Intoccabile. Ciò che potrebbe allontanare il giocatore di oggi dal provare Resident Evil Rebirth è forse il fatto che il gioco propone alcune meccaniche che ad oggi non si usano più. Il che non significa che siano meccaniche meno valide, anzi, ma che semplicemente propone cose tipiche di quel tempo là. Un esempio? Beh, l'assenza totale del salvataggio automatico, oppure il caricamento con la porta che si apre. Resident Evil rimane comunque un gioco realizzato con la mentalità del 2002. Ed è per questo motivo che mi stupisce il fatto che Capcom abbia deciso di realizzare i remake di Resident Evil 2 saltando il primo. Per quanto il primo capitolo, come ho detto, rimane ancora oggi un capolavoro, non può in alcun modo piazzarsi nel nuovo filone di Resident Evil. Un nuovo filone realizzato con la mentalità del 2020, con un processo produttivo e creativo totalmente diverso. All'inizio del video intendevo dire proprio questo. Il processo artistico di ristaurazione che ha portato a Resident Evil 2 e 3 è totalmente diverso rispetto a quello del primo. Quindi Resident Evil Rebirth, che sì, a sua volta è già un remake, non può essere dato per buono considerando il nuovo filone di videogiochi realizzati nel Re-Engine. E già che ha introdotto nel remake del terzo una splendida Jill Valentine, perché Capcom non sfrutta l'occasione per riproporre di nuovo l'incubo di Villa Spencer? Tanto riferimenti nel terzo li hanno già inseriti. Questa è una cosa che mi rammarica parecchio, soprattutto perché il futuro della saga sembra essere abbastanza incerto, con un imminente e non necessario Resident Evil 4 remake. La speranza di vedere prima o poi una Villa Spencer in Re-Engine è minima, e ancora oggi non mi ha del tutto abbandonato. Ma nel frattempo, so che quel capolavoro di Resident Evil Rebirth mi terrà ancora compagnia a lungo della mia vita. Grazie a tutti.